www.africaMission.it E' il QAM Medici con l'Africa. Vi voglio ringraziare perché pur essendo molto vecchia e sapendo ben poco di agricoltura, mi avete insegnato questi nuovi e moderni metodi di coltivare. E ciò mi ha aiutato a tornare giovane di testa. Sono molto contenta per questo mio orto perché non ho mai coltivato prima d'ora queste varietà. La mia difficoltà è togliere le erbacce perché con la cassava devi farlo almeno 4 o 5 volte in modo da ottenere le giuste dimensioni del tubero. Quando raggiunge la giusta dimensione la cassava diventa resistente al sole e al fuoco. La cassava è il futuro perché i miei figli imparano da me come coltivarla e sarà per loro un mezzo di sussistenza. Io sto continuando a insegnare ai miei figli ciò che so perché la conoscenza ti porta a vivere per sempre. Io sto continuando a insegnare ai miei figli ciò che so